Buonasera a tutti, benvenuti, grazie all'ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede per il suo bellissimo messaggio di pace che oggi ci ha voluto regalare, la tipologia scientifica come forza di pace. Un messaggio veramente molto bello, grazie per l'ospitalità questa sera e per portare le proposte, le idee, tutto quello che abbiamo pensato questa mattina perché arriviamo da un momento di lavoro di gruppo molto intenso e oggi vedremo i risultati dei tre gruppi di lavoro, tre proposte per la sanità del futuro e per essere sempre più vicini ai cittadini e veramente veicolare un messaggio di pace.